Prepararsi a liste d'attesa ancora più lunghe oppure a pagare per essere curati, spiegatelo ai cittadini lombardi. Il nuovo affondo diretto all'assessore regionale al welfare Bertolaso arriva dal gruppo del Partito Democratico dopo le denunce dei tempi d'attesa lunghissimi e l'affollamento al pronto soccorso di Vigevano da parte del consigliere comunale Dem Corsico Piccolini e l'allarme lanciato dai sindacati pavesi che ai nostri microfoni hanno spiegato che con la previsione di un'ulteriore riduzione del personale infermieri in primis, nei prossimi anni l'assistenza ospedaliera non potrà che peggiorare. Oggi il gruppo del PD in regione, con la nota del consigliere Valacchi, rincara la dose appuntando l'attenzione sulla questione del centro unico di prenotazione di cui si discute da una decina d'anni ma che non ha ancora visto la luce, anzi, sottolinea il PD, viene continuamente posticipato. La scorsa settimana in commissione bilancio l'assessore Bertolaso ha annunciato l'avvio dell'agenda unica per fine 2026 anziché, come era stato proclamato a maggio, dal 1 gennaio 2024, fa sapere ancora Valacchi, quindi con un ritardo di tre anni sulla tabella di marcia e con nessuna certezza. L'assessore tenta di giustificare questo ritardo accampando la scusa di problemi informatici, tecnici e organizzativi mentre al contempo emerge un altro problema, quello dei privati, che starebbero mostrando una forte resistenza per aderire al CUP unico. Vogliono gestire le prenotazioni da soli, attacca il PD, per potersi garantire l'erogazione delle prestazioni più remunerative a scapito di altre, ma i lombardi servono tutte. Per questo, conclude il Partito Democratico, forse sarebbe meglio che Bertolaso spiegasse ai cittadini lombardi che devono prepararsi a liste d'attesa ancora più lunghe oppure a mettere mano al portafogli per essere curati.